Siamo in controllo con Marco Ma perché li chiamano 30 mm? 30 cm E che? Ma qual è 30 cm? Ma lo devi spiegare Perché tu non conosci bene la materia della geometria E tu hai scambiato i centimetri per i millimetri No, no Adesso sono 30 mm No, allora Perché una volta E noi E a guardare Allora, una volta Alla living Faccio così Mi vedi? Allora Perché una volta Alla living Una negra Mi supporta Il posto del metro E sta posto che Quella era Ma quello Ma quello Ma quello Ma adesso sta posto Adesso, capito? Ma quello no Quello era il metro cinese No, no, no Non è nel metro della compita europea E' una nida E' una nida Lei Ma quello secondo me Ha immaginato quello di un nido No, no, no Ha portato il metro A piccano No, no Che metro E' una nida E' una nida